L'imbecille. Ma che c'entrava, infine, Mazzarini, il deputato Guido Mazzarini, col suicidio di Pulino. Pulino? Ma come? Si era ucciso Pulino? Lulù Pulino, sì, due ore fa. Lo avevano trovato in casa che pendeva dall'asola del lume, in cucina. Impiccato? Impiccato, sì, che spettacolo. Nero, con gli occhi e la lingua fuori, le dita raggricchiate. Povero Lulù, ma che c'entrava Mazzarini? Non si capiva niente. Una ventina di energumeni urlavano nel caffè, con le braccia levate e qualcuno era anche montato sulla sedia. Attorno a Leopoldo Baroni, il presidente del circolo repubblicano di Costanova, che urlava più forte di tutti. Imbecille, sì, sì, lo dico e lo sostengo. Imbecille, imbecille, gli avrei pagato io il viaggio. Io gliel'avrei pagato. Quando uno non sa più che farsi della propria vita, per Dio, se non fa così è un imbecille. Scusi, che è stato? Domandò un nuovo venuto, accostandosi, intronato da tutti quegli urli un po' perplesso. A un avventore che se ne stava discosto, appartato in un angolo in ombra, tutto aggruppato, con uno scialle di lana sulle spalle, un berretto da viaggio in capo, dalla larga visiera che gli tagliava con l'ombra a metà del volto. Prima di rispondere, Costui levò dal pomo del bastoncino una delle mani inscheletrite, nella quale teneva un fazzoletto appallottolato, e se la portò alla bocca, sui baffetti squallidi, spioventi. Mostrò così la faccia smonta, gialla, su cui era ricresciuta, radarada, quella a una barbettina da malato. Con la bocca autorata, combatte un pezzo, sordamente, con la propria gola, dove una tosse profonda irrompeva, rugliando trassibili. Infine disse, con voce cavernosa, mi ha fatto aria, va accostandosi. Scusi, lei non è di Costanova, vero? E raccolse, nascose nel fazzoletto qualche cosa. Il forestiere, dolente, mortificato, imbarazzato dal ribrezzo che non riusciva a dissimulare, rispose, no, sono di passaggio. Siamo tutti di passaggio, caro signore. E aprì la bocca, così dicendo, e scoprì i denti in un chigno frigido, muto, ristringendo in pitte rughe, attorno agli occhi aguzzi, la gialla cartilagine del viso immaciato. Guido Mazzarini, riprese poi lentamente, è il deputato di Costanova. Grand'uomo. Estropicciò l'indice al pollice ed una mano, a significare il perché della grandezza. Dopo sette mesi dalle elezioni politiche a Costanova, caro signore, ribolle ancora furioso, come vede, lo sdegno contro di lui. Perché, avversato qui da tutti, è riuscito a vincere col suffraggio ben pagato delle altre sezioni elettorali del collegio. Le furie non sono svaporate. Perché Mazzarini, per venticarsi, ha fatto mandare al municipio di Costanova, si scosti, si scosti un poco, mi manca l'aria. Un regio commissario. Grazie. Già, un regio commissario. Cosa, cosa di gran momento. Un regio commissario. Allungò una mano e, sotto gli occhi del forestiere, che lo mirava stupito, chiuse le dita, lasciando solo ritto il mignolo, esilissimo. Appuntì le labbra e rimase un pezzo intensissimo a fissare l'unghia livida di quel dito. Costanova è un gran paese, disse poi. L'universo, tutto quanto, gravita attorno a Costanova. Le stelle, dal cielo, non fanno altro che sbirciar Costanova. C'è chi dice che ridano. C'è chi dice che sospirino dal desiderio di avere in sé ciascuna una città come Costanova. Sa da che dipendono, le sorti dell'universo. Dal partito repubblicano di Costanova. Il quale non può aver bene in nessun modo. Tra Mazzarini da un lato e l'ex sindaco Cappadona dall'altro. Che fa il re. Ora il consiglio comunale è stato sciolto e per conseguenza l'universo è tutto scombussolato. Eccoli là. Li sente? E quello che strella più di tutti è Paroni. Sì. E quello là col pizzo. La cravatta rossa è il cappello alla lobbia. Strella così. Perché vuole che la vita universa e anche la morte stiano a servizio dei repubblicani di Costanova. Manca la morte. Sì signore. Si è ucciso Pulino. Sa chi era Pulino? Un povero malato. Come me. Siamo parecchi a Costanova malati così. E dovremmo servire a qualcosa. Stanco di penare il povero Pulino oggi si è... Impiccato? All'asola del lume. In cucina. Ma così? No. Non mi piace. Troppa fatica a impiccarsi. C'è la rivoltella, caro signore. Morto più spiccia. Bene. Senta che dice Paroni. Dice che Pulino è stato un imbecille. Non perché sia impiccato. Ma perché prima di impiccarsi non è andato a Roma ad ammazzar Guido Mazzarini. Già. Perché Costanova e conseguentemente l'universo rifietasse. Quando uno non sa più che farsi della propria vita se non fa così. Se prima di uccidersi non ammazza un Mazzarini qualunque un imbecille. Gliel'avrebbe pagato lui il viaggio. Dice. Con permesso, caro signore. Salzò di scatto. Si strinse da sotto con ambo le mani. lo scialle attorno al volto. Fino alla visiera del berretto. E così imbaccuccato. Curvo. Lanciando occhiataccia al crocchio degli urloni. Uscì dal caffè. Quel forestiere di passaggio restò imbalordito. Lo seguì con gli occhi fino alla porta. Poi si volse al vecchio cameriere del caffè e gli domandò, costernatissimo. Chi è? Il vecchio cameriere tentennò al capo amaramente. Si picchiò al petto con un dito e vi rispose sospirando. Anche lui. Poco più potrà tirare. Tutti di famiglia. Già due fratelli e una sorella. Studente. Si chiama Fazio. Luca Fazio. Colpa della madraccia. Sa. E per soldi sposò un tisico. Sapendo che era tisico. Ora lei sta così. Grossa e grassa. Incappagna. Come una badessa. Mentre i poveri figliuoli a uno a uno. Peccato. Sa che testa ha quello lì? E quanto ha studiato? Dotto. Lo dicono tutti. Viene da Roma. Dagli studi. Peccato. E il vecchio cameriere accorse al crocchio degli urloni che, pagata la consumazione, si disponevano a uscire dal caffè con Leopoldo Paroni in testa. Serataccia. Umida. Di novembre. La nebbia s'affettava. Bagnato tutto il lastrecato della piazza. E attorno a ogni fanale sbadigliava un alone. Appena fuori dalla porta del caffè, tutti si tirarono sul bavero del pastrano. E ciascuno, salutando, s'avviò per la sua strada. Leopoldo Paroni, nell'atteggiamento che gli era abituale, di svegnosa, accigliata fierezza, sollevò di traverso il capo. E così, col pizzo all'aria, attraversò la piazza. Facendo il mulinello col bastone. Imboccò la via di contro il caffè. Poi volto a destra, al primo vicolo, in fondo al quale era la sua casa. Due fanaletti piagnucolosi, affogati nella nebbia, stenebravano a malapena quel lercio budello. Uno a principio. Uno infine. Quando Paroni fu a metà del vicolo, nella tenebra, e già cominciava a sospirare al barlume che arrivava a fioco dall'altro fanaletto, ancora remoto, credette di discernere laggiù in fondo. Proprio innanzi alla sua casa, qualcuno appostato. Si sentì rimescolare tutto il sangue e si fermò. Chi poteva essere? Lì. A quell'ora. C'era uno, senza dubbio. Ed evidentemente appostato. Lì. Proprio innanzi alla porta di casa sua. Dunque per lui. Non per rubare, certo. Tutti sapevano che gli era povero come cincinnato. Per odio politico. Allora. Qualcuno mandato da Mazzarini. Un reggio commissario? Possibile. Fino a tanto. Il fiero repubblicano si voltò a guardare indietro. Perplesso. Se non gli convenisse ritornare al caffè o correre a raggiungere gli amici, da cui si era separato ora. Non per altro, per averli testimoni dell'aviltà dell'infame dell'avversario. Ma si accorse che l'ha postato, avendo udito certamente nel silenzio il rumore dei passi fin dal suo entrare nel vicolo, gli si faceva incontro. Là dove l'ombra era più fitta. Eccolo. Ora si scorgeva bene. Era imbacuccato. Paroni riuscì astento a vincere il tremore e la tentazione di darsi la gambe. Tossì. Gridò forte. Chi è là? Paroni. Chiamò una voce cavernosa. Un'improvvisa gioia invase e sollevò Paroni nel riconoscere quella voce. Ah! Luca Fazio! Tu! Lo volevo dire. Ma come? Tu qua, amico mio, sei tornato da Roma? Oggi. Rispose Cupo. Luca Fazio. Mi aspettavi, vero? Sì, ero al caffè. Non m'hai visto? No, affatto. Eri al caffè. Come stai? Come stai, amico mio? Male, non mi toccare. Hai qualche cosa da dirmi? Sì. Grave. Grave? Eccomi qua. Qua no. Su a casa tua. Ma c'è cosa? Che c'è? Luca? Tutto quello che posso, amico mio. T'ho detto non mi toccare. Sto male. Erano arrivati alla casa. Paroni trasse di tasca alla chiave, aprì la porta, accese un fiammifero e prese a salire la breve scaletta aerta, seguito da Luca Fazio. Attento. Attento agli scalini. Attraversarono una saletta. Entrarono nello scrittoio, appestato da un acre fumo stagnante di pipa. Paroni accese un sudicio lumetto bianco a petrolio, sulla scrivania in gombra di carte. E si volse premuroso a Fazio. Ma lo trovò con gli occhi schizzanti dalle orbite. Fazoletto premuto forte con ambo le mani sulla bocca. La tosse lo aveva riassalito. Terribile. A quel puzzo di tabacco. Oddio. Stai proprio male, Luca. Questi dovette aspettare un pezzo per rispondere. Chi no più volte il capo? Si era fatto cadaverico. Non chiamarmi amico. Scostati. Prese infine a dire. Sono agli estremi. No. Resto in piedi. Tu scostati. Io non ho paura. Protesta Paroni. Non hai paura? Aspetta. Sghignolo Capazio. Lo dici troppo presto. A Roma, vedendomi così agli estremi, mi mangiai tutto. Servai solo poche lire per comprarmi questa rivoltella. Cacciò una mano nella tasca del pastrano e ne trasse fuori una grossa rivoltella. Leopoldo Paroni, alla vista dell'arma, un pugno a quell'uomo in quello stato, diventò pallido come un cencio. Levò le mani. Balbettò. Che è carica? Ehi, Luca. Carica. Rispose ricito il fazio. Hai detto che non hai paura? No, ma se... Dio liberi. Scostati. Aspetta. Ne ero chiuso in camera. A Roma. Per finirmi. Quando, con la rivoltella già puntata alla tempia, ecco che sento picchiere all'uscio. Tu. A Roma. A Roma. Apro. Sai che mi vedo davanti? Guido Mazzarini. Lui. Casa tua. Luca Fazio fece di sì. Più volte col capo. Poi seguitò. Mi vide con la rivoltella in pugno e subito, anche dalla mia faccia, comprese che cosa stessi per fare. Mi corse innanzi. Mi afferrò per le braccia. Mi scosse e mi gridò. Ma come? Così tu uccidi? Luca, sei tanto imbecille. Ma va. Se vuoi far questo, ti pago io il viaggio. Corri a Costa Nove. Ammazzami prima Leopoldo Paroni. Paroni, intentitissimo finora al truce strano discorso, con l'animo in subbuglio nella tremenda aspettativa di una qualche atroce violenza davanti a lui. Si sentì ad un tratto sciogliere le membra. Mi aprì la bocca, un sorriso squallido. Vano. Scherzi. Luca Fazio si trasse un passo indietro. Ebbe come un tiramento convulso in una guancia, presso il naso, e disse con voce scontorta. Non scherzo. Mazzarini mi ha pagato il viaggio. Ed eccomi qua. Ora io. Prima ammazzo te. E poi mi ammazzo. Così dicendo alleva il braccio con l'arma, emirò. Paroni, atterrito, con le mani innanzi al volto, cercò di sottrarsi alla mira, gridando. Sei pazzo! Luca, sei pazzo! Non ti muovere, intimò Luca Fazio. Pazzo, eh? Ti sembro pazzo? E non hai urlato tre ore al caffè che Pulino è stato un imbecille perché, prima di impiccarsi, non è andato a Roma ad ammazzar Mazzarini. Leopoldo Paroni tentò ad insorgere. Ma c'è differenza, per Dio! Io non sono Mazzarini! Differenza? Esclamò al Fazio, tenendo sempre sotto mira al Paroni. Che differenza vuol che ci sia tra te e Mazzarini? Per uno come me o come Pulino, a cui non importa più nulla della vostra vita e di tutte le vostre pagliacciate? Ammazzar te o un altro, il primo che passa per via, è tutt'uno per noi. Siamo imbecilli per te, se non ci rendiamo strumento all'ultimo, del tuo odio o di quello d'un altro, delle vostre gare e delle vostre buffonate. Ebbene, io non voglio essere imbecille come Pulino. E ammazzo te. Per carità, Luca, che fai? Ti sono sempre stato amico! Presa a scongiurar Paroni, storcendosi per scansare la bocca dalla rivoltella. Guizzava, veramente negli occhi di Fazio, la folle tentazione di premere il grilletto dell'arma. Eh, disse col solito ghigno prigito sulle labbra, quando uno non sa più che farsi della propria vita. Buffone! Stai tranquillo, non t'ammazzo. Da bravo repubblicano, tu sarai liber pensatore, eh? Ateo. Certamente, se no, non avresti potuto dire imbecille a Pulino. Ora tu credi che io non ti ammazzi, perché spero gioie e compensi in un mondo di là? No, sai? Sarebbe per me la cosa più atroce credere che io debba portarmi altrove il peso dell'esperienza che mi è toccato fare in questi 26 anni di vita. Non credo a niente. Eppure non t'ammazzo. Ne credo di essere un imbecille se non t'ammazzo. Ho pietà di te, della tua buffoneria. Ecco, ti vedo da lontano. Mi sembri così piccolo e miserabile. Ma la tua buffoneria la voglio patentare. Come? Fece Paroni con una mano a campana, non avendo udito l'ultima parola nell'intronamento in cui era caduto. Pa-ten-ta-re. Si lavò fazio. Ne ho il diritto. Giunto come sono al confine. E tu non puoi ribellarti. Siedi là e scrivi. Indicò la scrivania con la rivoltella. Anzi, quasi lo prese e lo condusse a seder lì per mezzo dell'arma puntata contro il petto. Che? Che vuoi che scriva? Balbetto Paroni annichilito. Quello che ti detterò io. Ora tu stai sotto. Ma domani, quando saprai che mi sono ucciso, tu rialzerai la cresta. Ti conosco. E al caffè urlerai che sono stato un imbecillo anch'io. No? Ma non lo faccio per me. Che vuoi che mi importi del tuo giudizio? Voglio vendicare Pulino. Scrivi. Dunque. Lì, lì. Va bene. Due parole. Una dichiarazione. Io, qui, sotto scritto, mi pento. Ah no, per Dio. Scrivi, sai. Questo solo patto ti risparmio la vita. O scrivi, o t'ammazzo. Mi pento d'aver chiamato imbecille Pulino. Questa sera. Al caffè. Tra gli amici. Perché, prima d'uccidersi, non è andato a Roma ad ammazzar Mazzarini. Questa è la pura verità. Non c'è una parola di più. Anzi. Lascio che gli avresti pagato il viaggio. Hai scritto? Ora pagherò la multa per portodarmi abusivo. Dunque. Luca Fazze è venuto a trovarmi, armato di rivoltella. Hai scritto? E mi ha detto che, conseguentemente, anche lui, per non essere chiamato imbecille da Mazzarini o da qualche altro, avrebbe dovuto ammazzar me come un cane. Hai scritto? Come un cane? Bene. A capo. Poteva farlo. E non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché ha avuto schifo e pietà di me. Ed è la mia paura. Gli è bastato che gli dichiarassi che il vero imbecille sono io. Paroni, a questo punto, congestionato, scostò furiosamente la carta e si trasse indietro protestando. Questo poi. Che il vero imbecille sono io. Ripetè, freddo, perentoriamente, Luca Fazze. La tua dignità la salvi meglio, caro mio, guardando la carta su cui scrivi, anziché quest'arma che ti sta sopra. Hai scritto? Firma adesso. Si fece porgere la carta. La lesse attentamente. Disse. Sta bene. Me la troveranno addosso. Domani. La piegò in quattro e se la mise in tasca. Consolati, Leopoldo. Col pensiero che io vado a fare adesso una cosa un tantino più difficile di quella che ora hai fatto tu. Buonanotte.